Secondo le statistiche di YouTube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Molte aglie sopracciglia Ma sei il fetido dei miei capelli e sopracciglia? No, visto che faccio qualunque cosa Per 500 euro lo faresti per i capelli? A zero Buzzcut Cos'è Buzzcut? E' tipo, non ha appelato a ragazzo No, ho scritto un articolo che... Che è giusto che aveva rinfama Che dice... Che lo ha un minacciato Che diceva, non so se lo vorrei ficciare o se è messo in parte Ah, ho capito chi è, ma quello che aveva tipo insultato su... Che cosi con quella... Ah, su Thread, su Thread Ah, perchè hai insultato su Thread? Si, 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 si Ho fatto la classica mazzcona Vai Bacio a Jody, bacio a Jody No, bacio dall'altra parte, bacio dall'altra parte Bravo, bravo di là Ancora più vicino No, 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 no No, che sembra veramente... Ma che cazzo Mamma mia Quindi se faccio così che succede? No, 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 no Jody, ti ha messo il cazzo in mano Eh, mi sa che a Jody è piaciuto No, no, no A me sicuro Allora, allora Se no... No comment Io ho visto un film che è iniziato così Ma va, minchia, Gimbert Le stesse quattro battute che riciclano tutti Ho visto un film ieri che è iniziato così Gimbert, non è che questa frase non è applicabile a ogni contesto, eh Cioè, è una battuta che... Cioè, nel senso, non è che puoi usarla sempre Usi sempre la stessa battuta Sì, sì, sì Oddio che sta a morire io Ok Robiii Ciao Ma non può aver fatto la cazzata due volte di togliere la barba, è impossibile Due volte di fila mi sarebbe grave Stai molto bene, David Stai molto bene, David No, fra Troppo Come troppo? No No No, zio Con calma No Con calma, con calma, con calma No, aspetta, risolviamo tutta la situazione Allora No, respira, rispira Sì, ma lei che non te lo dice Sì, ma scusate Cioè, adesso, realisticamente Ma come cazzo fai a dire una roba del genere? Cioè, tu cosa fai? Vai da un ragazzo Cioè, lei veniva da me e diceva Simo, posso dirti una cosa? Dimmi, dimmi tutto Hai la sborra su tutte le labbra Ah! Grazie Ma a parte che lei sapeva che io l'amavo Vabbè Ciao Beppe Ciao Beppe Allora, partiamo un attimo Spezzando un attimo Allora, se potessi gentilmente allontanarti Dalla fotocamera Se puoi anche abbassare un pochino la cam Sarebbe... Ok, perfetto, ci siamo Ciao Beppe, come stai? Un piacere averti di nuovo qua Un momento più alto della mia carriera Purtroppo è... Non la Ferrari La Ferrari Ci metti il tuo impegno Ma poi arrivi a un punto che ti stanchi Perché dici Io quel sogno per me è realizzabile Hai rotto la videocamera? Mi è successo Te la fai a camminare? Sì, Franco Dire il tuo nome di Instagram Vabbè, come ti chiami su Instagram? Vai Ma così almeno dopo ti mando Eh, vai, come ti chiami su Instagram? Eccoci Si Come cazzo si gira la camera? Ok, ti ho scritto ciao Ma la merda no, ma no Ma che cazzo sta fattendo? Ma sono pieno di merda Cosa è accaduto? Ma si sta cacando addosso? Ma mi fa cacare, non lo voglio fare Coc, 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 coc Stai zitta Mi fa cacare A posto Ma dai Simone No, di stare zitta, ecco Bastarda Mi ho spaccato È molto divertente Perché Simone vi dice Non sono coglione La gente mi riempie di merda Secondo voi sono così coglione Da non mandare i soldi a una persona a cui glielo promessi Fa il tiktok Mi ha mandato i soldi Minchia ho la carriera rovinata Figurati se mi rimando Grazie Giubbotto per il crime Io per far attivare le varie cose che ci sono nella tua camera Devo pagarle Devo sbloccarle 56 euro e 95 9 Per la luce Se riesci un attimo E se ti pago io Potrei anche venire sotto a casa tua No, non è quello che voglio Brava Che senso mi paghi No, oggi mi è apparso un video Veramente bravissimo Cioè, veramente Da fare video su YouTube A portare uno show a teatro A fare 40 date E riempirle Alzo le mani Cioè, sciapo veramente Complimentissimi Grazie SuperServe Ragazzi di Manietta CSM Hanno fatto una roba assurda Cioè, veramente Veramente bravissimo Cioè, una bellissima idea Una bellissima idea Davvero complimenti Grazie Bandita Grazie SuperServe Ragazzi per i 26 Per gli 11 Grazie belli, gentilissimi Vi ricordo che se volete sabbarvi C'è il link nella chat Come? Sei sposato? Sono felicemente single Meglio stare da solo Chi mai l'ha accompagnato Per sempre Bravo Numero uno Dito Bravo Cammello Dai, no, vaffanculo Vabbè, hai guardato la chat Vabbè, dai, grande Complimenti Giuro su Dio Che non ho ne guardo la chat E ne ha scritto nessuno in chat Complimenti Complimenti Grande, vabbè, dai Non ci voglio credere Un pezzo di merda fatto è finito Guarda, la coca si sta Non c'è neanche gusto Cosa sta fare No No Sta facendo self Stavampando No, no Non sta pippando Vabbè, comunque Cioè, Gio, è tu che sei il capo dei fa...